Sembra finalmente arrivata la scossa Ragneri per la squadra giallorossa, un altro 1-0 importantissimo nella lotta Champions dopo la vittoria esterna di Genova, 1-0 all'Udinese firmato Eddingeto su Assis di Sharawi, una vittoria preziosissima in vista di Milan-Lazio che si giocherà questa sera a San Siro. La Roma ha condotto molto bene la gara, molto solida, molto più solida rispetto alla Roma di Di Francesco, è riuscita a portare a casa questa vittoria con tante armi, con la tecnica perché ha portato tanti giocatori nella metà campo avversaria, ha creato tante occasioni, ha vinto con tanta tenacia, con tanta grinta che era mancata negli ultimi periodi, soprattutto negli ultimi partiti con Di Francesco e con questo lampo è riuscita a portare a casa tre punti che la proiettano al momento in zona Champions. Dopo un inizio favorevole all'Udinese che è entrata meglio in campo, ha avuto un approccio migliore, la Roma è riuscita a prendere campo, ha controllato poi la partita anche abbastanza agevolmente, rischiando molto poco, solo qualcosa nel secondo tempo, ha creato tante occasioni, è riuscita a portare a casa questa vittoria importantissima, lo ripetiamo, era fondamentale oggi per la Roma uscire dal suo stadio, dallo stadio olimpico, da dove sto registrando questi tre punti e ora si può mettere comoda a vedere i risultati delle avversarie e vedere lunedì sera in che posizione sarà. Registriamo il ritorno in campo di Under, registriamo una difesa che seppur con quattro centrali su quattro, perché abbiamo giocato Jesus, Manolas, Fazio e Marcano, sono riusciti a tenere, a tenere molto, poi è entrato Florenzi nella ripresa, quindi un altro recupero importante per la Roma, perché comunque non aveva spinta da quella parte con Juan Jesus, recupererà Kolarov nella prossima partita dopo la squalifica, Under recuperato, insomma ci sono buone prospettive per il proseguio di questa stagione, per il finale di campionato, per questa lotta Champions che vede la Roma al momento protagonista, perché al momento in attesa degli altri risultati, la Roma è pienamente in lotta, in zona Champions, l'effetto Ragneri, come abbiamo aperto questo video, sembra arrivato, quindi tanta solidità, tanta grinta, tanta voglia di lottare e con la tecnica che hanno i giocatori della Roma, che ha una rosa molto forte, il gol prima o poi lo trova, come ha detto lo stesso Ragneri in conferenza stampa, appena arrivato a Roma per la sua seconda esperienza sulla panchina giallorossa. Che dire ragazzi, rimanete sempre aggiornati con noi per tutti i nostri video, cerchiamo di essere più presenti possibili in ogni posto, in ogni dove, iscrivetevi al canale qui sotto, commentate il video, fateci sapere che ne pensate, se l'avete vista come noi, condividetelo qualora vi fosse piaciuto, lasciate un like e un saluto forte e un abbraccio dagli avariati, oggi in versione stadio olimpico. Un saluto a tutti!